Allora mi trovo qui alla palestra di Luca De Marzi, oggi 28 aprile 2024. Prango da Verzano, oggi ho assistito alla maratonina del Cucino di 21 km. La partenza c'è stata alla 10.30 e l'arrivo, sempre dove è partita la maratonina, a Piazza di Sorgimento. Adesso scendo piano piano, posso salire sopra una roccia. Un po' di precauzione. Bella sta palestra. Questa è frequenzata da molti arrambicatori, gli appassionati della montagna, della palestra. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Questi procedono veloci, guarda. Bravi. Uno qui. Bella sua escursione. Qui abbiamo quelli che accengono la corda. Guarda, c'è qua.